Inaugurata questa mattina al rione Traiano un'area verde attrezzata per i cittadini del quartiere, con due campi da bocce, un campo di calcetto con tappeto in erba sintetica, panchine e giochi per bambini. La ristrutturazione dell'area, situata in via Ancomarzio, è stata realizzata sfruttando alcuni fondi stanziati dalla precedente consigliatura. Oltre a un'importante azione di pulizia dell'intera area si è provveduto alla potatura degli alberi, al recupero delle recinzioni e al ripristino del servizio di illuminazione. Cambiare passo è ripartire proprio da quelle che sono zone completamente degradate ed abbandonate. Il significato è far capire e dimostrare che la presenza delle istituzioni ci sono. Adesso deve voltare pagina un territorio ed un quartiere che sino a ieri non ha avuto nessun tipo di rappresentanza. Il nostro programma prevede le aperture di aree, specialmente in zone difficili, di aree di vivibilità dove praticamente andiamo a coniugare nel modo migliore sport, salute, contatto con l'ambiente, contatto con una bella area al verde. Quindi l'apertura di questa struttura è stata anche un'occasione per una corretta riqualificazione urbana dell'intera area.